10, 5, 4, 3, 2, 1, e vai! Destra 2, attenzione, sinistra 2 lunga interna, non stringe, 50 sconnessi. Destra 2 meno sale, 2 meno sale questa. Per sinistra 4, in attenzione alla rete sinistra 2 gira, tonda. 20, tornante destro, 40, destra 3 più, 20, in attenzione, inversione sinistra larga. 20, inversione sinistra larga. Sinistra 3 più, non sento in staccata, inversione destra, 20. Destra, sinistra 2, 80. Inversione sinistra, poca leva, 80. Inversione destra, 70. 70 dopo, eh! Destra 3 meno sul ponte, non stringi, 20. E sinistra 2 meno. Per inversione destra, stretto leva. Inversione destra, stretto leva. Esce sinistra 3 più. Per al cartello, sinistra 3 più, 2 derby. La seconda chiude al primo cancello, 80. Chiude al primo cancello, 80. Al rovescio, destra 3 più, 50. Stai a sinistra. Scicante, ingresso a sinistra, 100. In fondo, sacrifica. Destra 3 meno. Per in fila, sinistra 3. Per destra 3 più. Questa sacrifica. Destra 3 meno. In fila, sinistra 3. Per destra 3 più, 20. Sinistra 3 interna. Per destra 3 più, 80. Qui a destra 3 più, 80. Sinistra 2 stretto. Con sinistra 3 più, 50. 2 stretto. Questa è sinistra 3 più, 50. Ai cartelli, sinistra 4, 80. E al cartello, destra 3 meno, 80. Stai a sinistra. 80 dopo, stai a sinistra. Scicante, destra 2. Per sinistra 2, 40. Destra 2, per sinistra 2, 40. Array il piccolo. Destra 3 più. In destra 3. Qui a destra 3. Per sinistra 3 più, 80. In fondo, credici. Sinistra 3 lunga, 3 più lunga. Due tempi, il secondo giro. Il cartello apre, 40. Chiedi destra. Per sinistra 3 più, interna. E scorri, 50. Array il destra 3 più, due tempi. E in fila, sinistra 3 più, due tempi. Qui in fila, sinistra 3 più, due tempi, 50. Destra 3 per sinistra, 3 meno, 20. Destra 3 questa. Sinistra 3 meno dopo, 20. E sinistra 3 più. In array il piccolo. Destra 3 meno. In sinistra 3 meno, gira. Stai attento alle palle. 40. Destra 3 più. Per array di ponte. Destra 2 più, sale 50. Destra 2 più, sale 50 qui, eh. Spogliato. Non fa niente, vai, tranquilli. In fondo, sinistra 3 più, 80. 3 più, bravo, 80. Quella è sinistra 3 più, interna. In destra 3, sacrifica. Destra 3, sacrifica. In sinistra 3, hai birri veloce. Sinistra 3, birri veloce. Per destra 3 più al cartello. Per sinistra 3 più, tieni. Per destra 4. Qui è destra 4 dopo, eh. Al cartello destra 3 meno, 40. 3 meno, 40. Sinistra 3, tieni e chiudi là. Per destra 1, subito inversione, sinistra. Per destra 1, subito inversione, sinistra. 20, 27. Per destra 2, 40. Sinistra 3 più, tossata, interna. Per destra 4, 80. Stai a sinistra, Shigan, ingresso a sinistra. In uscita, attenzione. Destra 3, scorri. Per sinistra 4, due, tempi, interna. Sinistra 4, due, tempi, interna questa. Subito destra 3 meno. Subito destra 3 meno, attenzione. Al palo, sinistra 3 più, tieni, interna. Alla rete, sinistra 3, due, tempi. Due tempi questa. Per in fila, destra 3 meno. Per sinistra 3 interna. Destra 3 meno, per sinistra 3 interna. In destra 3 meno sul ponte. Per sinistra 3 interna. Quella dopo sinistra 3 interna. Per destra 3 in fila le tutte. Destra 3, per sinistra 3 più. Per destra 4 più. Agli alberi destra 3 più in fondo. E dopo al rail, sinistra 3 più, a rosso chiudi. 3 più a rosso chiudi. 50. Al ponte destra 2, scorri. Per sinistra 6, 80. Alla cabina, sinistra 4 tieni. 50. E al palo, sinistra 3 meno. Qui a sinistra 3 meno. Al muretto destra 2 più, gira. 2 più, gira. Sinistra 3 più. Adorosu chiudi e poi vai. 80. Vai qui. Ai bini, ritarda e scorri. Sinistra 3 più. 40. Per destra 3 più. Destra 3 più, questa. Poi c'è destra 3 meno, vicina. Destra 3 meno, vicina. 20. Ricordati qua. Sinistra 3 più interna. Due tempi. Il secondo al vedi rail. Con sinistra 3 più lunga. Fino al cartello rovescio. 3 più lunga fino al cartello rovescio. Subito destra 3 in corda. 40. Sinistra 3 più. Per destra 3 più. Al vedi ponte 70. 3 più questa. Al vedi ponte 70. Stai sinistra. Alla barriera. Entra stretto destra. Uno meno salta. 40. Dosetto. Occhio che salta qua. Al muretto sinistra 2 gira. Per destra 1 leva. Fine BS. 54. Fino. Great virtual. Grazie. ERA. Boom.